Buon mercoledì 24 febbraio. Siete sale della terra, luce nelle tenebre. Questo noi siamo e siamo chiamati a dare sapore alla vita su questo pianeta, a illuminare i momenti bui, semplice luce di una candela, ma sufficiente a rendere chiaro ciò che sembra oscuro. Ma allo stesso tempo siamo chiamati a dare compimento alla legge, non trasgredirla semplicemente, ma darne compimento e essendo sapore della terra e luce rispetto alla dimensione esistenziale, dare compimento significa coglierne l'essenza illuminata dall'amore per la giustizia sociale, dall'amore per il diritto del povero, dell'orfano e della vedova, per usare un linguaggio biblico. Dare compimento non significa assoggettarsi alla legge, molto spesso è scritta dai potenti di turno. Dare compimento significa insaporirla di questa dimensione dell'amore e della giustizia, che sono le autentiche matrici di una legge che va oltre se stessa e si pone nella dimensione dell'amore e non del sacrificio, dell'amore che non si fa sedurre da ciò che la legge cerca significa di contenere e quindi il compimento della legge significa coltivare la dimensione dell'amore e della giustizia, dopodiché non avremo più bisogno di ottemperare al dettaglio della legge stessa. Ma se noi semplicemente trasgrediamo il dettaglio e non diventiamo luce e sapore della terra, siamo destinati a non dare compimento alla legge stessa, ma a continuare a vivere nella dimensione della seduzione del peccato. Credo che attraverso questa rappresentazione vi sia una prospettiva antropologica e culturale intensamente liberante. Buona giornata a tutti.